Francesco Menna, Sindaco di Vasto, allora il Partito Democratico e i socialisti chiedono una fase 2 della sua amministrazione. Lei cosa ne pensa di questo cambio di passo richiesto? Io sono d'accordo perché abbiamo passato insieme una prima fase diretta e finalizzata a una serie di temi importanti. Da un lato il taglio dei costi, penso alla chiusura del mattatoio comunale che gravava per oltre 100 mila euro sulle casse comunali, penso al taglio delle utenze, penso che ha portato a ulteriori risparmi, penso a quelli che in futuro saranno i tagli dei canoni di locazione passiva, così come le nuove gare che consentiranno ulteriori risparmi indette e tagli di ulteriori costi che se avessimo potuto, come quello del contratto Enel, avremmo fatto, ma che purtroppo i contratti e le leggi non ci consentono. Dall'altro abbiamo concentrato la nostra azione su un altro tema importante che era quello di entrate extratributarie, entrate nuove per modo di dire, come ad esempio i ricorsi contro le piattaforme petrolifere che hanno portato nelle casse comunali oltre 2 milioni di euro, la vendita delle quote della pulcra per circa 1 milione e 2, la rottamazione delle cartelle e i ricorsi verso lo Stato e la Regione che devono a questo comune diverse centinaia di migliaia di euro, penso per fare l'esempio al contenzioso col Ministero di Giustizia per oltre 2 milioni di euro per le spese del Palazzo di Città. Dall'altro ci siamo concentrati in questa prima fase anche sull'otta all'evasione, inaugurando questo ufficio nuovo Tributi che già dà risultati importanti, ha recuperato 70 mila euro di imposta di soggiorno non versata, ha recuperato le cosiddette doppie residenze, l'Imu delle doppie residenze per oltre 100 mila euro. Dall'altra abbiamo passato anche in giro per la Regione e lo Stato ad intercettare risorse. Non è un caso che si sta ristrutturando il Tribunale di Vasto con un finanziamento avuto per un milione e mezzo di euro circa, partirà anche la ristrutturazione del Faro, penso poi alle somme avute dalla Regione per le Acque Bianche, ai due giri d'Italia che ci hanno consentito in una prima fase di asfaltare alcune strade notoriamente impraticabili, impraticabili come Vasto Marina, la salita da Vasto a Vasto Marina e la strada di Via del Porto. Maggio ripasserà il giro d'Italia e speriamo di intercettare nuove risorse per gli asfalti. Quindi in questi primi due anni e mezzo da buon padre di famiglia, da buoni padri di famiglia, abbiamo pensato a ottimizzare le risorse, a rendere il bilancio sereno, a abbassare, a battere l'anticipazione di Cassa. Ora si passa a quella che io condivido, che chiedono i partiti, ovvero la seconda fase. Una seconda fase diretta a trasformare questi grandi sacrifici che sono stati fatti rendendo le casse comunali serene, quindi rendendo anche la città serena, perché ci sono molte città che vanno in dissesto, falliscono, eccetera. Si passa in questa fase in cui i sacrifici devono essere trasformati in investimenti, ma investimenti oculati. Come nelle famiglie, anche nel comune, si può spendere 10 se si ha 10. Se si deve spendere di più bisogna fare il mutuo e il mutuo si fa se si può fare. Grazie a tutte queste entrate siamo riusciti quindi ad aumentare la capacità di mutuo abbattendo il prestiti nei confronti delle banche e quindi l'anticipazione. Questo significa l'isola ecologica, quindi la gara d'appalto che è partita con il mutuo di 300.000 euro per la realizzazione dell'isola ecologica, significa gli asfalti che ci consentiranno quindi di arrivare in molti quartieri che sono, le cui strade sono impraticabili, quindi andremo a contrarre un mutuo per oltre un milione di euro, delle somme per l'illuminazione pubblica, soprattutto per quei quartieri dove l'illuminazione pubblica non vi è, significa andare a completare il pontile che io ricordo dall'inizio di questo mandato è stato avuto manutenzione, elargita dai privati sia nella fase dello smaltimento e dello smantellamento del legname vecchio sia nella fase di alcune opere di ristrutturazione, quindi sono tutti investimenti che vanno nella direzione di andare a garantire servizi pubblici e il buon andamento della pubblica amministrazione. Quindi da buon patri di famiglia abbiamo fatto questa prima fase, oggi i partiti chiedono una seconda fase ed è giusto che vi sia in termini di investire proprio quei sacrifici che ci sono stati. Seconda fase con la stessa giunta, con gli stessi assessori? Io ritengo che la giunta sia un organo di fiducia del sindaco e quindi ad oggi credo non ci sono motivazioni nel cambiare assessori. Io ho dato degli obiettivi ai miei assessori, ho dato degli obiettivi alla squadra tra questi obiettivi penso alle cose che mi vengono più nell'immediatezza in mente cioè il garantire ad esempio i diritti dell'assistenza sociale, questo è un comune che spende diverse centinaia di migliaia di euro nell'assistenza sociale, cosa che continuiamo a garantire, le cosiddette case famiglia, i diritti di alcuni disabili sussidi ordinari, straordinari, sono notevoli somme. Ho dato obiettivi per quanto riguarda questioni importanti come l'isola ecologica o l'ampliamento del cimitero che ci consentirà appunto di approvare spero a breve il progetto per quindi andare a fare il mutuo cosiddetto di un milione di euro per l'ampliamento dello stesso. Insomma tutti obiettivi che se vengono raggiunti come sono in itimene e come credo che siano per essere raggiunti consentiranno di dare a vasto una città migliore e ai cittadini servizi importanti. Questo mi consentirà ad oggi di dire che la giunta è organo di fiducia del sindaco e quindi ho piena fiducia dei miei assessori.